Ciao a tutti gli amici di PescaSub TV, sono Fulvio Calvenzi, Presidente della Federazione Italiana Pesca in Apnea. Abbiamo partecipato a questa campagna insieme a Dania Europa, Apnea Academy e AquarioInfinito.net per sensibilizzare la gente e soprattutto i naviganti al rispetto della bandiera segna sub. Troppi incidenti accadono per investimento di subacquei oppure anche di apneisti o pescatori in apnea. Noi come Federazione Italiana Pesca in Apnea abbiamo fatto di questa campagna già dal 2011, abbiamo già fatto una delle bandiere del nostro impegno per la difesa della pesca in apnea. Presto chiameremo tutti i nostri soci a darci una mano per l'affissione delle locandine, queste che vedete, sulle marine, sulle banchine, nei porti turistici, in modo da rispondere il più possibile il messaggio e informare i naviganti di stare attenti alla bandiera PescaSub. Sotto una bandiera c'è una vita. Grazie a tutti e grazie agli amici di PescaSubTV. Grazie a tutti.